Stefano Revisore Revisore Quando gli amici dei miei bambini mi chiedono che lavoro fai, io rispondo, io faccio gli occhietti ai robot. Per essere precisi, io cerco di inventare gli algoritmi che siano la parte del cervello di un robot che controlla gli occhi. La vista è importantissima per noi, noi esploriamo il mondo con la visione, con la nostra capacità di percepirlo. Pensate che il 30% dei nostri neuroni sono dedicati alla visione, solo il 4% al tatto. Pensate anche che c'è una parte del nostro cervello che è espressamente dedicato a riconoscere i visi e che il primo viso che un neonato impara, una delle primissime cose che un neonato impara, è riconoscere il viso della mamma, perché dalla mamma dipende la protezione, dipende il cibo. E quindi la nostra capacità di percepire è fondamentale per capire il mondo ed è per questo che dobbiamo cercare di dare queste stesse capacità percettive ai robot se vogliamo che diventino veramente parte della nostra vita, che ci aiutino. E però vedere è più che percepire. Facciamo una demo. Ho bisogno del vostro aiuto. Alzi la mano destra. Chi pensa che questa sia una tazza? Chi pensa che sia una tazza continua a tenere su la mano destra? E adesso invece, chi pensa che questo sia un portapenne, alza la mano sinistra. Potete tenerle alzate tutte e due. Vi siete arresi tutti. Che cos'è che ho fatto? Che è successo qui? Quando io vi ho fatto vedere questo oggetto, voi lo avete riconosciuto come una tazza perché tante, tante, tante volte voi avete bevuto un caffè o un tè o qualsiasi sia il vostro liquido caldo preferito da un oggetto come questo. Liquido caldo perché io sto tenendo questo oggetto dal manico, perché le tazze hanno il manico, perché le vogliamo usare, sono dei contenitori che vogliamo usare per mettere del liquido caldo dentro. Allora la mano deve stare distante perché non mi voglio scottare. Però è un contenitore. E qualche volta sicuramente l'avete visto usare o lo avete usato come un portapenne perché è un contenitore. Posso metterci dentro le cose? Posso metterci anche l'acqua? Posso metterci anche una piantina? Perché no? Allora che cosa sto dicendo qui? Che la percezione di questo oggetto non mi dice tutto rispetto a quella che è l'essenza di questo oggetto. Noi capiamo quello che vediamo, non solo sulla base di quello che percepiamo, ma lo capiamo anche sulla base di altre modalità, di quello che facciamo con questo oggetto. E allora nel nostro cervello cosa è successo quando io vi ho mostrato questa tazza? è successo che noi abbiamo dei modelli che si possono definire metamodali, formati da tante modalità, a cui la percezione è quello che ci fa fare click e dove ci agganciamo. Però poi ci sono tutte queste altre informazioni che dipendono molto da tutto quello che noi possiamo fare con questi oggetti, da tutte le azioni che abbiamo compiuti con questi oggetti. ed è così che li immagazziniamo nella nostra memoria, è così che si capisce quello che si vede. Ed è questo tipo di rappresentazioni metamodali di cui abbiamo bisogno per far capire il mondo ai robot, per farli vedere come vediamo noi. e però non basta ancora. Dobbiamo fare un passo in più, dobbiamo andare oltre. Vi racconto una storia. Questa è una foto dal mio album di famiglia di una Pasqua di tanti tanti anni fa. Io sono la bambina che sta guardando con un amore sconfinato l'uovo di Pasqua perché io e la cioccolata mi piaceva, mi piace, è così. E così, però ho anche una bambina disciplinata, quindi ho aspettato fino alla fine del pranzo per spazzolare l'uovo. E poi non è finita lì. Perché oltre ad essere molto golosa, io sono anche sempre stata molto vanitosa, mi piacevano, mi piacciono i vestiti. E questa carta era bellissima, tutta luccicante, colorata. E così, dopo aver mangiato l'uovo, ho preso questa carta, me la sono paludata intorno e mi sono presentata così in salotto. Io non avevo mai visto nessuno usare la carta di un uovo di Pasqua così. Nessuno mi aveva mai detto che con la carta di un uovo di Pasqua potevi farti un vestito. Però avevo visto tanti tessuti. Avevo capito, avevo visto che con i tessuti si fanno i vestiti. Avevo visto la mamma al mare con il pareo, che assomiglia molto a questo oggetto. Prenderlo e farsi un vestito. E ho riconosciuto che questa bellissima carta colorata aveva queste stesse proprietà di flessibilità. E quindi che cosa ho fatto io? Io ho immaginato che con la carta di un uovo di Pasqua si potesse fare anche quello che si può fare con un pareo. E l'ho fatto e mi sono vestita. Questo è il punto. Questo è l'essenziale. Oltre ad essere capaci di capire il mondo con rappresentazioni che vanno al di là di come lo percepiamo, con rappresentazioni metamodali, noi siamo capaci di immaginare, noi siamo capaci di andare oltre quando vediamo qualcosa. Noi siamo capaci non solo di pensare a quello che è, di capire, di comprendere quello che è, ma anche di immaginare quello che potrebbe essere. Questo è uno dei grandi trionfi dell'intelligenza umana ed è oggi uno degli enormi limiti dell'intelligenza artificiale. Io sono sicura che voi avete sentito notizie di robot che fanno concerti. Questi robot eseguono perfettamente, esattamente, le azioni, i gesti che gli sono stati insegnati dal loro maestro. Se questo maestro è un grandissimo artista, il concerto sarà meraviglioso, ma sarà esattamente, esattamente quella singola e unica interpretazione. Confrontate questo con quello che sono capaci di fare gli esseri umani. Pensate a un'orchestra jazz di musicisti che si incontrano, che suonano insieme per la prima volta e che mettono il loro talento insieme e creano, al momento, improvvisando, una musica meravigliosa mai sentita prima. Questa capacità di immaginare, questa capacità di andare oltre. Questo è una delle grandissime sfide che l'intelligenza artificiale, che la ricerca in questo campo, oggi cerca di affrontare. Non è facile. Dobbiamo passare da un mondo analogico ad un mondo digitale. Quando io lavoro sulle immagini, le immagini sono fatte di pixel, quindi tutto è discreto. E quello che dobbiamo fare è scrivere programmi, è scrivere algoritmi che riescano a catturare, almeno in parte, quello che io vi ho raccontato. Per farlo abbiamo uno strumento da un paio di anni, da cinque anni per la precisione, il deep learning. Sono degli algoritmi che cercano di simulare il comportamento del cervello umano. Si implementano delle funzioni che assomigliano ai neuroni, che assomigliano alle sinapsi, collegamenti tra i neuroni. E questi algoritmi vengono chiamati algoritmi a grande capacità perché sono algoritmi in grado di gestire milioni e milioni di dati, nel mio caso di immagini. Queste immagini sono il cibo, se volete, sono la benzina che mettiamo dentro questi algoritmi, che riescono, sono una specie di spremi dati, li mettiamo dentro e riescono a distinguere il rumore dal segnale, quello che ha un dettaglio da quello che è essenziale. E siccome nel web ci sono tantissime immagini, ci sono tantissimi dati, per cercare di costruire rappresentazioni metamodali, soprattutto nel caso in cui non abbiamo esempi concreti, nel mio gruppo di ricerca, i miei vandali, io e i miei vandali, ci siamo detti ma perché non proviamo a insegnare ai robot? A insegnare, a imparare dal web? In fondo, quando noi non conosciamo qualche cosa, che facciamo adesso? Fuori il cellulare e cerchiamo sul web. Perché non anche per i robot? Questo è un esempio di quello che noi facciamo. Qui vedete il braccio robotico. Abbiamo chiesto a questo robot di sparecchiare un tavolo dopo che avevamo fatto colazione. Nella memoria dei robot c'erano vari oggetti, c'era la tazza, c'era la banana, ma non c'era il vasetto di miele. E quindi il robot ha percepito che ci fosse qualche cosa sul tavolo, ma non era in grado di dire cosa fosse. E quindi è andato a cercare sul web. Cosa ha fatto? Ha preso una foto e con questa foto ha trovato tante altre immagini simili, tante altre percezioni simili. E dopo un po' ha iniziato a notare che queste percezioni simili che trovava sul web erano molto spesso associate a una parola, a vasetto di miele. E così ha imparato il nome di quell'oggetto. E con il nome di quell'oggetto ha potuto cercare anche altre informazioni. Ha capito che è un oggetto che è composto di parti, perché ha un coperchio. E quindi quando il robot deve andare a prenderlo, non è una buona idea prenderlo dal coperchio perché se non è avvitato mi porto via il coperchio e il vasetto resta lì. Ha imparato che c'è un certo peso che si può aspettare. Quindi la forza che il braccio robotico deve utilizzare per tirare sul vasetto sarà di un certo tipo. Ha imparato che è un oggetto rigido, non è come il cartone del latte. Quindi quando preme, quando la mano si chiude, il controllo tattile deve essere di un certo tipo. E vi faccio notare che questa informazione che sul web troviamo sotto forma di testo, quindi un simbolo, noi la impariamo con le azioni, con la nostra esperienza e siamo capaci di click, toglierla dalla nostra esperienza e renderla simbolica e accessibile a tutti. E così dopo aver imparato tutte queste cose il robot ha scoperto che questo oggetto misterioso è un vasetto di miele ed è stato in grado di prenderlo e continuare a sparecchiare la tavola. Abbiamo costruito una rappresentazione metamodale di un vasetto di miele a partire dal web. E con l'immaginazione che cosa facciamo? Con la capacità di immaginare. Quello che noi ci siamo immaginati è perché non facciamo venire al robot delle allucinazioni? In maniera legale, solo legale. Allora, questo che vedete qui è una mela allucinata. Abbiamo preso delle foto di mele dal web e abbiamo insegnato al robot a immaginare come sarebbe stata questa mela in tre dimensioni. Perché l'informazione che io trovo sul web sono immagini, sono a due dimensioni, ma io ho bisogno di capire la profondità, la forma dell'oggetto. e quindi a partire da queste immagini siamo riusciti ad allucinare la forma. Questo è un piccolo risultato, però in realtà per noi è un passo molto importante. Fatemi fare un altro esempio. Io ora vedo quello che riesco con queste luci, vedo tutti i vostri visi. Io non vedo il dietro delle vostre teste. Però ho visto molte, molte volte delle persone e quindi sto assumendo che il dietro della vostra testa sia sferico. Ora magari laggiù dove non vedo c'è un alieno di guerre stellari con una bellissima testa e ricciolo e quindi lì sto sbagliando. Però se siamo tutti esseri umani qui la testa è rotonda. Questo noi lo facciamo continuamente. quando noi percepiamo in maniera incompleta per proseguire in qualsiasi sia l'obiettivo che dobbiamo avere, per avere un modello del mondo noi completiamo con quello che è più probabile. Però questa capacità di completare è capacità di immaginare. Perché di solito io vado con il più probabile. Ma chi disegna, inventa i personaggi di guerre stellari cerca l'improbabile. E allora se noi qui abbiamo trovato la strada per avere una mela probabile forse in futuro da qui noi troveremo anche la strada per una mela di guerre stellari. Mettendo insieme tutti questi pezzi siamo riusciti ad avere un R1 che impara dal web dei fiori. Questi sono tutti gli oggetti che il robot ha già imparato a riconoscere. E quando vedete queste barre che si alzano e che si abbassano questo segnala la confidenza che ha il robot in quello che vede. viene in assegnare un nome a quello che vede. Adesso riconoscio il guantone da forno. e vedete a volte ha delle esitazioni. E adesso gli mostriamo il fiore. E allora bisogna che impari che cosa è il fiore. E va a cercare immagini sul web simile a quella che ha visto e ne trova tante. ha anche il nome fiore, quindi si può aiutare. E quello che facciamo per aiutare il robot a calare questa conoscenza in quella che è la sua esperienza del mondo nel momento in cui gli serve usare questo modello è che prendiamo tutti questi fiori, ritagliamo dalla foto automaticamente, lo facciamo online, tutto quello che non è fiore e lo mettiamo in uno scenario che è molto simile a quello che il robot vede intorno a sé per aiutarlo a riconoscere i fiori che può vedere intorno a sé. Ecco il modello di fiore. E ha imparato. Siamo ancora molto, molto lontani da poter dire che possiamo riconoscere qualsiasi soggetto però stiamo facendo i passettini in questa direzione. Quando questi passettini porteranno ad aver percorso tutta la strada avremo dei robot che alle feste di compleanno dei nostri bambini prenderanno le lucine dell'albero di Natale e cercheranno di farsi belli per la festa. Siete tutti invitati. Grazie.